Ciao a tutti ragazzi, vostro Lee bentornati a un nuovissimo gameplay di Besiege o Besiege, ancora non ho capito come si pronuncia Allora, sono contento che il video precedente, il primo video vi sia piaciuto, più l'errore di montaggio grazie a Shadowplay Oggi ci riprovo con Shadowplay perché devo vincere, io non ho da vincere, Shadowplay c'è, su Fat ne esiste Allora, andiamo su... su Nell, mondo Y, allora abbiamo... uh che figa Le bandierine, lo sono quelle che abbiamo fatto, immagino, vi ricordo comunque che erano 4 livelli, adesso dobbiamo fare il quinto The Queen's Fudder, ok, via, ah, poi mi avete detto, giustamente, io poi da grandissimo e... Asperto, uccidi il 90% di tutti, carneficina praticamente, allora, io giustamente dico, a me questi giochini piacciono Però non so poi far curvare i mezzi, insomma, quelli che creo Mi avete detto, lì non devi mettere questi steering hinge sulla ruota, cioè nel senso non la devi bloccare Ma devi mettere la ruota sui cosi che sterzano Riflettendoci effettivamente così, cioè come se io per guidare un'auto non mi mettessi a sterzare Ma iniziassi a mettere i blocchi di legno nelle ruote per fermare, vabbè Battuta di merda non serve a niente, perfetto, dobbiamo uccidere il 90% di tutti Quindi, armi Frega circolare, metal cannone, flem... Ci sono, ci sono, allora, chi seppa me proprio Allora, allora, com'è che si muove? No, il destro, ok, col destro Allora, facciamo un attimo così, adesso proviamo a fare una bella cosa carina Allora, se ho capito bene Steering hinge, così E così, giusto? Giusto, apposto Così, così Così E così, perfetto E voglio provare a usare il flamethrower Come si fa? No, cannone Y Perfetto Dura 10 secondi Ehm, allora, com'era? Poi, metti a terra Ok A terra E gira, gira Fottuto genio E io però sto scappando come un coniglio Ma ha murito tutto qua Ma ha murito tutto qua Sono morto proprio In una maniera orribile Sto ammazzando tutti Forza Guarda la barra in basso No Sì Ahahahah Ahahahah C'ho fatta C'ho fatta Ok, next Una figura di merda C'ho fatta Però ce l'ho fatta Tips Ehm Premi Do sta? Vabbè, per salvare il tuo Ok To undurre Vabbè Came up blogs And fine tune parameters Questo qua Ok Ehm Bracing way Serum machine Ok Ok Ok, finito Perfetto Vabbè Ehm Steal and deliver to Non ho capito Aspetta Prima iniziamo Perché devo capire un attimo Allora, cioè Waste sono? No No No, no, no C'è Io Oh Come cazzo gira Ma lo vuoi Ma che sta facendo I due tizi? Oh Mamma Ma come gira Benissimo Proprio Sì Vabbè Ma non so Gena che la dava Lasciamo perdere Ok No Già capì Fermi tutti Mi sa Mi sa che l'ho fatta Un po' troppo Là Ok Ah C'è Quei Ah Giustamente Chi se come Piggio Così Vai Eh no Stavolta non posso Credo usare il calcio Della Vendetta Vai Sali 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 Sì Ok Prossima zona Vai E come cazzo Aspetta Devo suggerire Quel coso Oh Ci sono Professionista Aiucas Un genio militare Allora Fermi tutti Quindi se io faccio Così 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 Che altezza sta No Un altro poco Così Così No Ok Perfetto Avevo visto il cannone Cannone Premi C C Solo uno sparo Mi sa che è basso Mi sa che è basso Così Allora Togli 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 Dove erano i pezzettini Questi Così 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 Cannone Ah Il cubotto Va bene Uguale Allora Facciamo così Ci abbiamo i pezzettini Più piccoli Prende figure di merda Go go Devo fare Vediamo così Ci va Sì Perfetto Aspetta Fai mettere il suo combo Chiamai Sparo Sono parto Mezzo Ok Perfetto Dritto Perfettamente dritto In penna Piano Pia Ah Oh C Affanculo Ce l'ho fatta Mi sparava qualcosa Magico Non ci ho capito niente Vabbè Prossima zona Utilizza esplosivi Perché abbiamo gli esplosivi Qua dentro Bomba Perfetto Bomba Bomba E vabbè La metto qua davanti E ci cammino Aspetta Fammi togliere questo Non credo mi serve Perfetto Ok Non è scoppiata Per nulla Ma la sto Forse devo farla esplodere Io col tasto Esplode All'impatto Ah Ecco Mo' ho capito Quindi faccio Così Perfetto Puntare Ci A posto È un genio Militar Cioè proprio Allora Next Vai Di su Giornando Facendo Il tutto Cavalieri Tende Cannoni Ah Ok Allora Quindi Togliamo questa Che mi pare La cosa meno adatta Sinceramente Poi Uniamoci di armi Serie Stiamo Vabbè Non mi affetto Da solo Non credo Porca mese Però il cannone Un Là sono due Però Come faccio Come faccio Come faccio Spina Oh Aiaiaia Oh Pro Affanculo No Porca miseria Eh Bene Io vado in cerchio Così Che carino Il soldato Che cammina No Perfetto Non è cosa Così Allora Vai indietro E porca miseria In quanto Mi fanno a pezzi Armatura Così Così Come si girano i pezzi No Eeeh Come si girano i pezzi Lista controlli Tiro Aiuto Non mi ricordo Eeeh Rotablock Ok Un R Ok Teoricamente Dovrebbe andare Adesso No 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 Eh Dai Ma che palle Aaaaa Ok No Facciamo così Ancettiamo tutto Fatemi fare una Una struttura Mostruosamente Non lo so Cioè Moj proa Allora Eeeh Diciamo che facciamo Secondo me Così Cos'è sto suono Madò Eeeh Ok Poi facciamo così 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 Perfetto Ok Eeeh E questo Già Non mi piace Per cancellare Così Ok Allora Fermi tutti Quindi è Inghietante Sta Ah Sta Canzone Sta colonna Sonora Allora Iniziamo a mettere Le cose che girano Qua le ruote Perché ci servono Ok Ovviamente Ci servono Ma camminare Oh Che vanno giù Vabbè Senza rotazione Sta bene Credo Questa così E questa così Perfetto Poi Che avevo detto Che su qua Click and drive Da due punti No No Se clicco Ok posso Perfetto No Ok Allora Iniziamo a vedere Se sto coso Cammina decentemente Gira al contrario Cioè se premo sinistra Va a destra Non ho Non ho capito Sinceramente Fermi tutti Allora Com'era R No Fermi Cancella Cancella Vabbè Cancella anche questi Ecco qua Sinistra Va a sinistra Ok Dovremmo esserci Ok E ok Vediamo un attimo Come gira Destra va a destra Sinistra va a sinistra E me fanno a pezzi Mannaggia Allora Armatura Mettiamo Tino sti cosi qua Ok Così dovrebbe andare Ok Com'era R Vabbè Così Diciamo che Va Diciamo che va Poi Armi Mettiamo Le punte Metalli Che non posso Perché giustamente Ci stanno I Gli scudi E come facciamo Così No Cannone No Non all'indietro Ok così Perfetto No Qua sopra Però mi conviene Metterci sempre Le seghe Suona male Lo so So queste Vado Perché Perché non posso Scusate Ah Ho la Piastra metallica Eh vabbè Facciamo così Questo qua Metti a terra Eh Non lo so Proviamo Siamo stagazzata Velocemente Aiaia No Ma ho fatto a pezzi Con un colpo Bastardo No Dai 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 Porca Mi Vabbè ho capito Devo rinforzare La sua cosa Allora Facciamo che Facciamo che Facciamo Così Così E così Ok Poi Che sfizio Eh Eh Dove è Armatura Armatura Ruota Facciamo così Cioè Devo fare un carro armato Praticamente Vabbè Secondo me Non va Ma Sarà Ragazzi Da andare Va Non so come Ma va Guardate le frecce Attaccate sulle lame Che sfizio No Porca Mi sono perso Una ruota Devo girare La visuale Devo girare La visuale Devo girare La visuale Devo girare La visuale Investi a questi Fatto Fatto Perfetto Ci ho messo un po' troppo Sinceramente A fasoso Però Diciamo che Ragazzi Va bene così Per oggi Da questo che Rotola la terra Breakdance Perfetto Un campione assoluto Le frecce Che girano Là sopra Vabbè Ragazzi Io Termino qui il video Spero vi sia piaciuto Poi più avanti Faremo ovviamente Cioè I prossimi video Faremo gli altri belli Non so quanti Ne restano Questi qua Adesso ne abbiamo fatti O 4 o 5 Oggi non ricordo Vabbè Comunque Spero il video vi sia piaciuto Spero sia stato divertente Tanto là A destra La parte della ruota Fa i cazzi suoi E niente Bye bye I'm Batman